San Pietro Altanagro, fulmine si abbatte su enorme cumulo di fieno, vasto incendio, danni circoscritti, Montesano inaugurazione a Beveratoi in località Cambolongo sui monti della Maddalena, Paladino e Accetta, iniziativa volta allo sviluppo dell'allevamento, Caggiano entro il 15 giugno le domande per svolgere prestazioni occasionali, Agricoltura crescono il numero degli occupati nel settore, Montesano domenica 14 il quarto raduno auto e moto d'epoca organizzato dal Club Tremonti, partenza da località Tardiano. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News, apriamo con il maltempo, piogge temporali continuano a provocare danni su tutto il territorio del Vallo di Diano, nei giorni scorsi casi di allagamento in diverse abitazioni del comprensorio, intanto ieri sera i fulmini hanno addirittura provocato un vasto incendio nell'area industriale di San Pietro Altanagro con un enorme quantitativo di rotoballe che è andato a fuoco. Incendio di vaste proporzioni nella prima serata di ieri a San Pietro Altanagro, scatenatosi per fulmini che si sono abbattuti su un cumulo di numerosi rotoloni di fieno nell'area industriale del piccolo comune valdianese ai confini con Sant'Arsenio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadro Eugenio Siena, che dopo aver prontamente domato le fiamme non hanno potuto far altro che attendere il consumarsi del fuoco. A qua di ovare nei soccorsi anche i volontari della protezione civile, che hanno garantito la sicurezza lungo la piccola strada laterale che fiancheggia la zona interessata dalle fiamme. Nella serata di ieri, intorno alle ore 19, la pioggia e i temporali, accompagnati da numerosi fulmini, si sono abbattuti sulla vasta area di proprietà di un allevatore ed agricoltore del posto, che nei giorni scorsi aveva effettuato la raccolta del fieno con numerose rotoballe. Il raccolto era stato lasciato ai margini del grande capannone in alluminio. Resesi conto dell'arrivo del temporale, avevano provveduto ad allontanare il cumulo dalla struttura. Una serie di fulmini si sono abbattuti sull'area, andando a colpire il fieno ammassato che in brevissimo tempo ha preso fuoco. I proprietari hanno immediatamente allertato i caschi rossi che giunti sul posto sono riusciti ad allontanare gran parte delle rotoballe che erano al ridosso delle fiamme. I vigi del fuoco, inoltre, sono rimasti sul posto fino a tarda ora per raffreddare la grande struttura in alluminio presente al ridosso dell'incendio ed evitare il propagarsi delle fiamme. Fortunatamente, l'area circostante è disabitata e gli altri edifici presenti nella zona industriale di San Pietro Altanagro sono distanti dal luogo dell'incendio. Sul posto anche il sindaco, Domenico Quaranta, a verificare quanto stava accadendo. Danno economico notevole per i proprietari, anche se buona parte del raccolto è stato comunque salvato. E l'incendio non si è propagato per effetto dell'intensa pioggia caduta nelle ore precedenti, che ha così circonscritto le fiamme al solo cumulo di fieno lentamente consumatosi. La prudenza dei proprietari che hanno allontanato le rotoballe ammassate vicino alla struttura e l'intervento immediato dei caschi rossi ha impedito conseguenze più gravi, limitando i danni. E adesso la cronaca. Danno era reale a Marina di Pisciotta, in provincia di Salerno, per oltre 2 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro consecutivo su disposizione della sezione giurisdizionale della Compagnia della Corte dei Conti, su istanza del Vice Procuratore Generale, il dottor Aurelio Laino. Nel dettaglio i militari del nucleo di polizia tributaria hanno accertato una responsabilità amministrativa nei confronti della società titolare del villaggio turistico Le Mare. Il rappresentante della società e l'amministrazione di fatto hanno visto sequestrare beni e anche disponibilità finanziarie. Dalle indagini è emersa una responsabilità amministrativa per oltre 2 milioni e 600 mila euro per contributo pubblico indebitamente percepito. Il Comando Provinciale di Salerno ha appurato un meccanismo delittuoso attuato mediante la creazione ad hoc di società schermo per l'emissione di false attestazioni all'interrogatore utilizzo di fatture del tutto in parte inesistenti emesse da imprese compiacenti, utilizzo delle somme indebitamente percepite per un fittizio e artificioso aumento di capitale. Restiamo in tema. Nuovi arresti ieri nel Salernitano per furti avvenuti anche sul territorio provinciale. Una serie di reati e di eventi criminosi che stanno preoccupando e occupando la provincia salernitana ed in particolare la città. Sui numerosi casi che si stanno verificando è intervenuto il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il dottor Corrado Lembo, che sottolinea come troppo spesso gli inquirenti sono costretti a fare conti con scene del crimine inquietanti. Proprio su questo tema ha lanciato un appello ai cittadini per una maggiore cooperazione. La giustizia sarà sempre più forte se i cittadini saranno a fianco e collaboreranno sempre più intensamente con chi ha il dovere precipio naturalmente di accertare i reati e di assicurare la giustizia. Io conto molto sulla collaborazione dei cittadini perché direi che non solo corrisponde a un dovere civico ma direi che soprattutto in questo momento in cui vediamo che la legalità è un po' messa nell'angolo occorre veramente un modo generale di ribellione per le cose piccole ma anche per le cose grandi e quindi io mi aspetto che i cittadini ci diano una mano, sempre. Conta molto sulla collaborazione dei cittadini. Il procuratore capo di Salerno Corrado Lembo nel corso della conferenza stampa in procura per gli arresti dei tre pregiudicati napoletani in trasferta ai danni di negozi ha sottolineato l'importanza della collaborazione nelle indagini dei cittadini invitandoli a diventare una sorta di agenti della scientifica e a non contaminare la scena del crimine dopo aver chiamato le forze di polizia. Questo è un classico, quando si fanno dei rilievi di impronte digitali, comunque di traccio del commesso reale, molto spesso si trova la cosiddetta scena del crimine contaminata da chi dovrebbe avere interessi a lasciarla incontaminata. E dunque ecco, poiché ho dato disposizione alle forze dell'ordine di procedere sempre, per esempio nel caso di furti in appartamento, al rilevamento di eventuali impronte digitali e di tracce del commesso reale o della presenza dei possibili colpevoli, ecco io invito ancora una volta i cittadini a preservare, a diventare essi stessi gli agenti di polizia scientifica cercando di non contaminare la scena del crimine. Cambiamo argomento, sabato scorso a Montesano sono stati inaugurati gli abbeveratoi, in particolare sui monti della Maddalena. Gli abbeveratoi che sono stati ristrutturati grazie ad un finanziamento del 2007. Per l'avvocato Angelo Paladino e per Raffaele Accetta rappresentano un'opera utile per puntare allo sviluppo dell'allevamento nel territorio. Sabato scorso l'inaugurazione ufficiale dei ristrutturati abbeveratoi in località Campolongo a Montesano, sui monti della Maddalena, ormai da tantissimi anni abbandonati e distrutti dalle intemperie con l'impossibilità per gli animali di potersi abbeverare senza rischi. Nel 2007 Catiello Gallo, titolare del caseificio Campolongo, la cui immagine del marchio ritrae i propri luoghi della vallata in cui sono ubicati gli abbeveratori ristrutturati, chiese l'intervento dell'allora assessore alla provincia Angelo Paladino per la ristrutturazione e la messa in sicurezza. Ci sono voluti più di sette anni per veder completati tali lavori. Prevale ora però l'orgoglio di aver contribuito al mantenimento di un'attività come la pastorizia e il pascolo delle musche podoliche, quindi l'allevamento delle mucche da latte di qualità. I lavori, come sottolineato dall'avvocato Angelo Paladino, possono essere utili per favorire e incentivare verso l'attività dell'allevamento e della pastorizia. Fui portato qui dal Catiello Gallo, dagli amici della collina, e mi fecio vedere questo degrado che saltava il territorio bellissimo esternamente, ma c'erano dei pozzi ormai crollati che rappresentavano un pericolo non solo per le mucche, ma innanzitutto non consentivano alle mucche di abbeverarsi, di fare quello che normalmente si fa per mantenere questa pastorizia, mantenere un'economia. Noi invece dobbiamo salvaguardarlo, destinarlo alla produzione di latte, alla produzione di carni, a un'agricoltura di qualità e di nicchia. Le podoliche fanno il latte per i cacciocavalli doc, di cui ovviamente usufruiscono i caseifici, i contadini. Bene, questa era l'intenzione mia quando ho finanziato questa opera. A grande soddisfazione che seppur con qualche anno di ritardo abbiamo un risultato che serve. Ai pastori diamo l'acqua per abbevere le mucche, manteniamo il territorio pulito, gli diamo qualche contributo, utilizziamo i loro prodotti, credo che ci sia una grandissima possibilità economica anche per questo territorio, come sta avvenendo in altri territori. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo. Abbiamo un paesaggio splendido, un ambiente incantevole, abbiamo chi lavora ancora con le mucche, con i greggi, mi pare che questo sia importante. Bisogna aiutare chi lavora su questo territorio. Dello stesso avviso anche il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, che si dice soddisfatto di aver portato avanti la realizzazione di un'opera utile ad un'attività su cui puntare per il futuro e per lo sviluppo del territorio, augurandosi che anche in futuro si possano migliorare le condizioni di altri luoghi di prestigio. Un lavoro tra l'altro che mira a valorizzare dei luoghi che per noi sono importantissimi, specialmente in questo periodo in cui corriamo il rischio purtroppo di avere in questi luoghi altre attività che non sono legate all'acqua ma al petrolio e quindi a maggior ragione noi oggi inauguriamo i pozzi d'acqua e gli abbeveratoi che invece sono, come giustamente diceva poco fa Don Fernando, rappresentano la vita. Noi vogliamo attraverso queste opere, spero che ne possiamo fare altre perché ci sono tanti luoghi nel nostro territorio simili a questo che possono essere utilizzati al meglio. Un'opera che è stata avviata qualche anno fa, dimostrazione del fatto che noi abbiamo sempre avuto molta attenzione per questi luoghi. E cambiamo argomento. Il Comune di Caggiano ha deliberato la manifestazione di interesse, la disponibilità e l'adesione al svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessori da parte di disoccupati da impiegare sul proprio territorio. Con un avviso pubblico si rammenda che le domande possono essere recapitate al Comune di Caggiano entro e non oltre le ore 12 del prossimo 15 giugno. Lo scorso 16 aprile la Regione Campania, con il decreto dirigenziale numero 85, ha emesso un avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici per lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio da parte di lavoratori con due requisiti fondamentali. Non essere beneficiari nel 2015 di alcuna indennità di disoccupazione o di altro sostegno di reddito ed essere per settore di ammortizzatori sociali in deroga dal 2012 al 31 dicembre 2014. Il Comune di Caggiano, con delibera di giunta numero 63 del 5 maggio scorso, aveva deliberato la manifestazione di interesse, la disponibilità e l'adesione del Comune allo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio da parte di disoccupati da impiegare sul proprio territorio. Il Comune di Caggiano, tramite apposito avviso, ha indicato come termine ultimo per la presentazione delle domande le ore 12 del 15 giugno prossimo. La domanda, che va compilata sul modello allegato all'avviso, dovrà essere consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune o a mezzo posta. In quest'ultimo caso non farà fede il timbro di partenza, ma la data di arrivo al Comune. Nell'avviso si precisa che coloro che invieranno la domanda si rendono disponibili a svolgere lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, pulizia in occasione di manifestazioni sportive, culturali e caritatevoli, lavori di emergenza e attività lavorative aventi scopi di solidarietà. I criteri di selezione saranno residenza nel Comune di Caggiano o nei comuni limitrofi distante non oltre 30 km, avere un ISE più basso, qual elemento prioritario, numerosità del nucleo familiare in carico con particolare riferimento al numero di minori. A parità di requisiti verranno applicati altri criteri di precedenza specificati in dettaglio nell'avviso scaricabile sul sito istituzionale del Comune. Le prestazioni saranno commensate con buoni lavoro i voucher, il cui valore dominale lordo è di 10 euro all'ora e il cui valore netto è di 7,50 euro all'ora. Lo svolgimento del lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito IMSS ma è riconosciuto ai fini contributivi. I beneficiari non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti in rapporto di lavoro subordinato e la retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Trasferiamoci a caselle in Pittari, ridurre il sovraffollamento dei canili convenzionati, affidare gli animali a famiglie responsabili e con anche degli incentivi per quanto riguarda la tassa comunale sui rifiuti. Questo l'obiettivo che ha portato il Comune di Caselle in Pittari ad approvare il regolamento per l'adozione dei cani randaggi. Arriva una bella e interessante iniziativa a favore dei cani randaggi direttamente da Caselle in Pittari. Con una delibera del Consiglio Comunale dello scorso 23 maggio è stato approvato il regolamento per l'adozione di cani randaggi catturati sul territorio comunale e attualmente ospitati presso i canili convenzionati. La proposta del gruppo di maggioranza punta a far decrescere il sovraffollamento dei canili, migliorando il benessere degli animali grazie all'affidamento a famiglie consapevoli e responsabili. Nel regolamento sono indicate le modalità di assegnazione e sono indicati anche i requisiti basilari per l'ottenimento della custodia. Per incentivare la popolazione ad adottare un cani randaggio, l'amministrazione comunale ha previsto l'attuazione di sgrevi fiscali sulla tassa dei rifiuti per una somma complessiva di 300 euro all'anno. Il regolamento, fanno sapere dall'amministrazione, costituisce un ulteriore atto verso il compimento di politiche ambientaliste e animaliste, costituenti uno dei principali fondamenti dell'amministrazione Tancredi. Chiunque fosse interessato può contattare direttamente il comune di Caselle in Pittari. Seconda parte dell'edizione serale delle Uno News, apriamo con l'agricoltura. la Col di Retti ha estrapolato dei dati in base all'Istat nel primo trimestre 2015 e ha analizzato e ha rilevato come crescono il numero di occupati nel settore. Si parla di un più 7,4% per quanto riguarda i lavori indipendenti e un più 4,9% per quanto riguarda i lavoratori dipendenti. Secondo un'analisi condotta da Col di Retti nel primo trimestre del 2015 sulla base dei dati Istat, il settore agricolo fa registrare un aumento del numero di occupati pari al 6,2%, una percentuale superiore di 10 volte rispetto alla media totale di tutti i settori. Nelle campagne lavorano circa 27.000 unità in più rispetto allo scorso anno. Tuttavia, aggiungiamo noi, il dato potrebbe essere più ampio ed elevato se si considera il tanto lavoro nero che nel settore agricolo trova il suo maggior sfogo. Ritornando ai dati posti all'attenzione da parte della Col di Retti, il trend positivo dell'agricoltura rappresenta un dato importante in quanto, sottolinea l'associazione, è il risultato di una crescita sia del numero dei lavoratori indipendenti, più 7,4%, sia di quelli dipendenti, più 4,9%. In generale, tra dipendenti e indipendenti, l'occupazione nei campi fa segnare un aumento del 16,1% al nord, un calo dell'11,5% e un aumento del 44,4% al sud. L'aumento dell'occupazione, continua la Col di Retti, è accompagnato nel trimestre dall'andamento positivo del valore aggiunto del settore, che ha fatto registrare un aumento dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Le campagne possono offrire prospettive di lavoro sia per chi vuole intraprendere con idee innovative, che per chi vuole trovare un'occupazione anche temporanea, afferma il presidente della Col di Retti, Roberto Moncalvo, nel sottolineare che una spinta positiva all'agroalimentare Made in Italy può venire dall'Expo in una situazione in cui le esportazioni di prodotti agricoli, di alimenti e bevande trasformati sono cresciute in valore del 6,2% su baso e annua nel periodo gennaio-marcio 2015, dopo il record di 34,4 miliardi fatto registrare nel 2014. E cambiamo argomento, tornano gli appuntamenti formativi del Consilium Senatoris. Il prossimo 12 e 13 giugno, presso il complesso della Santissima Pietà a Teggiano, ci sarà una due giorni dedicata al ruolo del CTU, ovvero del Consulente Tecnico d'Ufficio. Nuovo appuntamento formativo con Consilium Senatoris con il contributo della Banca Montepruno. Il 12 e 13 giugno si terrà una due giorni dedicata all'approfondimento sul tema all'attività del Consulente Tecnico nel processo civile, penale ed amministrativo. Le attività formative si terranno presso il complesso della Santissima Pietà di Teggiano e prenderanno il via venerdì 12 giugno alle ore 9.30 con il saluto istituzionale del Presidente di Consilium Senatoris, Nicola Senatore, il Direttore della Banca Montepruno, Michele Albanese, e il Sindaco di Teggiano, Rocco Cimino. I lavori invece saranno introdotti dal Presidente dell'Ordine degli Architetti di Salerno, Maria Gabriella Alfano, dal Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri della provincia di Salerno, Felice Di Salvatore, e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro, Gerardo Cappelli, a seguire le relazioni dei magistrati Nicola Graziano e Francesco Graziano. Nel pomeriggio invece, dalle ore 15.30, verrà analizzato il tema della consulenza tecnica nel procedimento penale, a cura dei magistrati Vincenzo Saladino e Giovanni Sabato. La due giorni si concluderà il 13 giugno con l'appuntamento previsto dalle ore 9.30 alle 14.30 che vedrà la relazione di Angela De Martino, avvocato, la quale approfondirà il tema della negoziazione assistita ed il ruolo del tecnico. Successivamente seguirà un confronto sulle esperienze dei singoli professionisti e l'analisi di casi pratici di consulenti tecnici d'ufficio nel giudizio penale civile. E infine parliamo di eventi, torna con l'arrivo dell'estate, l'appuntamento organizzato dal Club Tremonti di Montesano sulla Marcellana con il quarto raduno di Auto e Moto d'Epoca in programma domenica 14 giugno dove tutti gli appassionati sono invitati ad un grande tour a Grumento Nova con partenza da località Tardiano a Montesano. Si rinnova l'appuntamento dedicato agli appassionati di Auto e Moto d'Epoca con il quarto raduno organizzato dal Club Tremonti di Montesano sulla Marcellana. L'appuntamento è in programma per domenica 14 giugno e coinvolgerà gli associati e numerosi appassionati del territorio in una giornata ricca di emozioni e finalizzata non soltanto al ritrovo e alla valorizzazione delle autovetture e motocicli storici ma anche per favorire momenti di aggregazione e di socialità. Ogni anno il Club Tremonti presieduto da Angelo da Conti traccia un percorso che i sempre più numerosi partecipanti al raduno dovranno seguire con i mezzi d'epoca attraversando e visitando aree anche al fine di una maggiore conoscenza del territorio e quindi un ampliamento del panorama culturale degli iscritti. Quest'anno il gruppo partendo da Tardiano di Montesano si regherà nella vicina Basilicata da dove provengono numerosi associati. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 del mattino gli organizzatori saranno presso il campetto sportivo della frazione Tardiano di Montesano per formalizzare le iscrizioni al raduno e per accoglierne di nuove. L'attesa prima della partenza sarà allietata da una ricca colazione e da un'attenta accoglienza da parte della comunità di Tardiano. Alle ore 10 e 30 la carovana partirà alla volta di Grumento Nova dove sarà effettuato un giro panoramico e la sosta dei veicoli in piazza. Durante la mattinata i partecipanti al raduno di auto e moto d'epoca saranno accolti da un rinfresco offerto dall'amministrazione comunale di Grumento Nova e a seguire è prevista una visita guidata al Palazzo San Severino con vista a Belvedere e visita al centro multimediale. Si ripartirà quindi in direzione Vigiano dove è previsto il pranzo presso il ristorante Kiris. La giornata terminerà con la consegna di gadget di partecipazione. Come ogni anno è inoltre previsto un programma supplementare facoltativo con la partenza alle ore 17 verso gli scavi di Grumento che restano aperti al pubblico fino alle ore 19. Con questa notizia si chiude l'edizione serale delle Uno News. Vi ricordo che per tutti gli approfondimenti c'è il nostro sito web www.unotvweb.it L'appuntamento invece con l'informazione è domani mattina alle 7.10 con la rassegna stampa. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.